ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco azot novartis farma spa ultimo aggiornamento 8 novembre 2021 cos'è azot confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere azot durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è azot azot è un farmaco a base del principio attivo brinzolamide appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico inibitori della nitrasi carbonica è commercializzato in italia dall'azienda novartis farma spa azot può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni azot 10 mg barra ml collirio sospensione 5 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare novartis euro farm l td concessionario novartis farma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo brinzolamide gruppo terapeutico antiglaucoma forma farmaceutica con l'irio indicazioni azot è indicato per ridurre l'elevata pressione intraoculare nei casi di ipertensione oculare glaucoma d'angolo aperto come monoterapia nei pazienti adulti in cui i beta bloccanti si siano dimostrati inefficaci o nei pazienti adulti in cui i beta bloccanti siano controindicati o come terapia aggiuntiva ai beta bloccanti o agli analoghi delle prostaglandine vedere anche paragrafo 51 posologia posologia quando usato in monoterapia o in terapia aggiuntiva il dosaggio è di una goccia di azot nel sacco congiuntivale dell'occhio barra e affetto barra i due volte al giorno alcuni pazienti possono avere una risposta migliore con la somministrazione di una goccia tre volte al giorno popolazioni speciali anziani non è necessario alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani compromissione epatica e renale azot non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica e pertanto non è raccomandato in tali pazienti azot non è stato studiato in pazienti con compromissione renale grave alle arance della creatinina 30 ml barra min o in pazienti con acidosi ipercluremica poiché la brinzolamide ed il suo metabolita principale sono excreti in modo predominante dal rene azot è controindicato in tali pazienti vedere anche paragrafo 43 popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di azot nei neonati nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni non sono state stabilite i dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4 8 e 5 1 l'uso di azot non è raccomandato nei neonati nei bambini e negli adolescenti modo di somministrazione per uso oftalmico si raccomanda l'occlusione naso lacrimale o l'abbassamento della palpebra dopo l'installazione ciò può ridurre l'assorbimento sistemico del medicinale somministrato per via oftalmica e risultare in una riduzione degli effetti indesiderati sistemici istruire il paziente ad agitare bene il flacone prima dell'uso dopo aver tolto il tappo se l'anello di sicurezza di allentato rimuoverlo prima di usare il prodotto per prevenire la contaminazione della punta del flacone contagocce e della sospensione si deve fare attenzione a non toccare le palpebre le aree circostanti o altre superfici con la punta del contagocce del flacone istruire i pazienti a conservare il flacone ben chiuso quando non lo si utilizza quando azot viene usato in sostituzione di un altro agente oftalmico anti glaucoma interrompe la somministrazione dell'altro agente ed iniziare la terapia con azot il giorno successivo se viene usato più di un medicinale topico oftalmico i medicinali devono essere somministrati singolarmente a distanza di almeno cinque minuti gli unguenti oftalmici devono essere somministrati per ultimi se si salta una dose proseguire il trattamento con la dose successiva come programmato la dose non dovrà essere superiore ad una goccia tre volte al giorno per occhio affetto controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 accertata ipersensibilità alle solfonamidi vedere anche paragrafo 4 4 insufficienza renale grave acidosi ipercluremica vedere paragrafo 4 2 avvertenze speciali e precauzioni di impiego effetti sistemici azot è una solfonamide inibitore della nidrasi carbonica e sebbene somministrato per via topica è assorbito a livello sistemico possono verificarsi con la somministrazione per via topica gli stessi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non stati condotti studi specifici sull'interazione di altri medicinali con azot negli studi clinici l'uso concomitante di azot e preparazioni oftalmiche a base di analoghi delle prostaglandine e timololo non vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere azot durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere azot durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non vi sono o sono disponibili in numero limitato dati provenienti dall'uso oftalmico delle brinzolamide in donne in gravidanza gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari azot altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari un temporaneo fuscamento della visione o altri disturbi visivi possono influire sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari vedere anche paragrafo 48 i se si manifesta un fuscamento della visione dopo l'installazione il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare usare macchinari gli inibitori orali della nidrasi carbonica possono ridurre la capacità di eseguire operazioni che richiedono attenzione mentale e barra o coordinazione fisica vedere anche paragrafo 44 e paragrafo 48 effetti indesiderati riepilogo del profilo di sicurezza negli studi clinici che sono stati condotti su oltre 2732 pazienti trattati con azot come monoterapia o terapia aggiuntiva al timorolo maleato 5 mg barra ml le vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio non sono stati riportati casi di sovradosaggio il trattamento dovrà essere sintomatico e di supporto potrebbero manifestarsi sbilanciamento elettrolitico sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti a livello del sistema nervoso dovranno essere tenuti sotto controllo i livelli di elettroliti nel siero in modo particolare il potassio e di livelli di ph del sangue proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica preparati anti glaucoma e miotici inibitori della nidrasi carbonica codice atc s01 e c04 meccanismo d'azione la nidrasi carbonica è un enzima presente in molti tessuti del corpo incluso l'occhio la nidrasi carbonica catalizza proprietà farmacocinettiche in seguito a somministrazione topica oculare la brinzolamide è assorbita nella circolazione sistemica a causa della sua alta affinità con la nidrasi carbonica ii la brinzolamide si distribuisce estensivamente nei globuli dati preclinici di sicurezza i dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica tossicità a dosi ripetute genotossicità e potenziale cancerogeno studi della tossicità sullo sviluppo elenco degli eccipienti benzalconi cloruro manditolo e 421 carbomer 974 p t loxapol di sodio e deteato cloruro di sodio acido cloridrico barra idrossido di sodio per aggiustare il ph acqua purificata farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di azot a base di brinzolamide sono brinza flux brinzolamide g brinzolamide milan brinzolamide sandos fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato